Si intitola Mina Fossati ed è un album in cui abbiamo come presenze chiaramente quella di Ivano Fossati, il grande cantante, e della grande Mina, la straordinaria cantante nonché musa della musica italiana. L'album è uno dei più aspettati di sempre, sia da parte di Fossati, dei fan di Fossati, che dei fan di Mina, e abbiamo due artisti di fama internazionale, alzato a dire, che vanno ad arricchire quella che è la musica italiana. E proprio in questo brano, proprio in questo album abbiamo, chiamiamolo così, il dono della musica che viene elargito con grande dirompensa da parte di Fossati e di Mina, che con voci penetranti, intense, forti, auliche, piacevoli, straordinarie, entrano a pieno diritto nel cuore della gente, nel cuore degli ascoltatori, rendendosi uniche nel loro genere al tempo stesso, piacevoli e straordinariamente belli da ascoltare. Tutto questo è Mina Fossati, l'album in cui abbiamo la compresenza di Ivano Fossati e della grande Mina. Grazie, il video termina qua. Tanti auguri di buon lavoro a Ivano Fossati e a Mina. Iscrivetevi, seguite, commentate. Al prossimo video da narratore italiano.